Ehi ragazzi, ciao a tutti da Nick e bentornati qua su RealPack2 Ragazzi, in mia compagnia c'è Lupetta, ma sta avendo, ormai come un po' troppo spesso, dei problemi Ok, almeno la voce la sentiamo, ma è da mezz'ora che cerca di entrare, addirittura non gli si apre neanche Minecraft E speriamo che riesce ad entrare Comunque ragazzi, io ho giocato un po' off camera e io ho catturato un bel po' di cose Abbiamo abbastanza per fare una farm di zombie, abbiamo abbastanza per fare la farm di Enderman, che è quello che interessa a noi Posso quasi fare la farm di creeper, mi mancano ancora due creeper da catturare, zombie villager Ma a noi interessa ragazzi la farm di Enderman, così possiamo finalmente creare il carburante per la nostra farm No, non per la farm, il carburante per i veicoli che abbiamo craftato Quindi dobbiamo creare innanzitutto questo, con questo, lo spirito di Enderman Dopodichè andiamo qua, mettiamo questi qua, mettiamo questo qua Bene, abbiamo il necessario per creare lo spawn di Enderman Dove mettiamo questi Enderman? Allora, ovviamente li mettiamo accanto alla farm dei blades Però mi sto ricordando anche di un'altra cosa Devo creare otto ventole Devo creare otto ventole Dunque la mod com'è che si chiamava, che non me lo ricordo più E forse che si chiamava proprio mob Devo creare otto mob Mob fan Aspetta, non ho capito Mob fan, raga, dobbiamo creare otto mob fan Per fortuna ho anche trovato tantissima redstone Anzi, a diaverità ho trovato anche un po' di diamanti Sono andato un po' in giro E ho trovato un po' di diamanti Ho trovato Ovviamente ferro E soprattutto ho trovato un bel po' di tin L'ho già cucinato Ho trovato un bel po' di tin e l'ho cucinato E ho trovato anche un bel po' di lapislazuli Come potete notare Ho trovato un bel po' di cose Ho trovato anche le zucche Insomma, mi sono fatto un gran bel giro della mappa Vi faccio vedere Sono andato fin quassù Ho trovato anche altri dungeon Che poi esploreremo Ho fatto un gran bel giro della mappa Alla ricerca di Enderman Allora Ci abbiamo sei ventole Me ne servono altre due Vedete che abbiamo altre redstone qua dentro Guardate quanto ferro Il tin Ah qua, tin, tin Ho trovato un botto di tin finalmente Ho trovato un bel po' di cose in giro Questo mi servirà La redstone mi serve Mi serve questo Facciamo le ultime due ventole Ok Mi servirà Almeno una leva Almeno mi piglio un po' di sta roba Ok, ecco qua il vetro Ah, sì Quelle cose che ha fatto Lupetta Allora, questo mi serve Sì Questo in realtà No Perché mo' possiamo fare questo Mo' possiamo fare questo Bene o male Vabbè, ma tanto alla fine Voglio dire Abbiamo lo spawn di Enderman Quindi ovviamente le perle tra un po' non sono un problema Quindi in pratica Creiamo quell'oggettino là E mo' facciamo due di questi Poi Ok Poi mi servono due di questi Qui dentro ci mettiamo l'esperienza Due rubinetti Che cacchio è sto cosa? Ossidiana Due rubinetti Ok Tecnicamente parlando Penso che non manchi Quasi nulla Vabbè Diciamo che almeno abbiamo il necessario Per cominciare a creare la nuova farm E tra un attimo vi faccio vedere Perché ho creato questi nuovi oggetti Dobbiamo smontare il vecchio sistema Di accumulo degli oggetti Perché mo' ne montiamo un altro Per accumulare gli oggetti Allora Innanzitutto la farm La mettiamo qua dentro Quella degli Enderman Appiccicata a quella dei Blades Quindi Piliamo questi E li mettiamo qua Bene Allora Mo' è semplice Qui scaviamo E ci mettiamo Le sette ventole Uno Due Tre E così via Questa va messa In un altro punto Direi che Come facciamo qua? Dovrei fare così Perché qua poi ci mettiamo il vetro Ovviamente Anzi Bene o male il vetro Ce lo posso già mettere Ovviamente Devo lasciare scoperto Un pezzo In modo tale Che io posso uscire Entriamo per di qua Allora In pratica Qua Dobbiamo scavare Va bene L'altra ventola Viene messa qua Questa ventola Viene messa Qui Ok In pratica Che succede? L'Enderman Appare Da queste ventole Viene spinto Qua sotto E da questa ventola Viene spinto Nel buco E così va a finire L'Enderman Qua dentro Allora Ovviamente Manca Tutto Il sistema Di funzionamento Qua Qui mi manca Tutto il sistema Di funzionamento In pratica La leva Va messa Qua Già la vado Ad accendere E teoricamente Dovrebbe essere Credo Qua dietro Vediamo un po' Ok Passiamo per di qua Così La ventola È in funzione Ok Però Prima Mi conviene Spegnere Porca miseria Non l'avevo spenta Quella dannata ventola Oh Lupetta Comincia ad entrare Allora Poi Andiamo per di qua E dobbiamo andare Dietro Alle ventole Dunque Se non dico Una fesseria Facciamo così E facciamo passare Questa redstone Per di qua Dovrebbe funzionare Teoricamente Allora Qui tappiamo Qui tappiamo Qui ci mettiamo Il repeater Così il segnale Un po' Lo potenziamo Qui ci mettiamo Questo E ci passiamo Sopra Ok Collegamenti Effettuati Do Quasi quasi Qua che non mi piace Questi li togliamo Lo facciamo Unico Ok Ma quasi quasi Faccio tutto Unico Che pare brutto Vedere così Ok Vediamo ragazzi Se funzionano I collegamenti Ok I collegamenti Funzionano Perfetto Spegniamo Quindi Mono è qua sotto Allarghiamo Allarghiamo Un bel po' Allarghiamo Di un bel po' C'è anche un bel po' Di esperienza Oh porca miseria Quest'acqua La possiamo togliere Non serve a niente Più Togliamo l'acqua Lui cade Per di là Quindi io lì Non ci devo mettere mano Bene Allora Teoricamente Non dovrei avere problemi Pure che cade qua dentro Non dovrei avere grossi problemi Allora vediamo un po' Come devo fare qua Un pochettino Allargo Allarghiamo qua sotto Ok Allora In pratica Ci mettiamo Allo stesso livello Questo Allo stesso livello Di questo Una leva Che io vado a mettere Qua Ok In pratica Che facciamo Noi Ci mettiamo La cassa Aspetta Vabbè Facciamo così Mettiamo la cassa qua Chiudiamo questo Non si chiude Porca miseria Ok Chiuso Va bene Allora Un attimino Questa roba La devo smontare Questo qua Non mi serve più Questo non mi serve più Va bene Qua ci mettiamo Qua ci mettiamo la pietra Che chiudiamo A dove arriva Arrivo Ok Anzi Quasi quasi Aspetta Questa leva Mi sembra Ok Lupe E appena puoi Sbloccare Sistemarlo Porca miseria Ok Ok Allora Quindi io Ci devo mettere Qua per terra Quel coso Che fino ha fatto Ecco Va bene Va bene Sei riuscita proprio Ad entrare Ah ottimo Sto sistemando Qua sotto Ok Allora In pratica Che facciamo Prendiamo Sti due cosi Sono degli aspirapolvere Come dire Insomma E però Al momento Non si collega Da nessuna parte No Non è nord Est Est Allora Ad est Ci vanno Gli oggetti Quindi Mò gli oggetti Vanno a finire Nella cassa Quindi A ovest Oggetti Mentre I due serbatoi Facciamo così Togliamo questo Togliamo questo I due serbatoi Li mettiamo Uno qua E uno qua Sotto Ci mettiamo Fluid Fluid Quindi Mò l'esperienza Andrà a finire Qua sotto Salve Lupettina E gli item Andranno a finire Nella cassa Allora Qui ci mettiamo Questo E questo Ti piace La fondanella Bene Come potete notare Ragazzi L'esperienza Va a finire Automaticamente Dentro A questo serbatoio E dalla fondanella Possiamo riprendere Le nostre cose Allora E gli oggetti Vanno a finire Qua dentro Quindi Teoricamente Parlando Stai creando Una nuova scala Ottimo Teoricamente Parlando Ci siamo Già Ci siamo Teoricamente E' bello Che è funzionante Dunque Meglio che tolgo Sta leva Non vorrei Che questa Decida di Ammazzarmi Ok Allora Pericoloso Allora Qui E basta Allora Prepariti Lupetta Che mo Ci cacchien Quindi Mo arriveranno Gli enderman Quindi 3 2 1 Vai Aspetta Il vetro Ok La leva La mettiamo qua Vuoi vedere Lupetta Come funziona Vieni qua Oh ma non parli Vieni qua Su Ciupettina Vieni qua Guarda Guarda l'enderman Allora Boom Ciao Enderman Ottimo Questa torcia La togliamo Facciamo un po' Di Oh Guarda 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 E la Sta roba Quindi non mi serve Più La togliamo Oppure Non puoi Ah Non puoi parlare Magari forse C'ha la mamma Magari c'ha la mamma In stanza Va bene Allora Guardate Come funziona Benissimo E qua dentro Ok E qua dentro Ci va a finire Ci va a finire Tutto Guardate Com'è bello Guardate Quanto È bello Vabbè Questi li teniamo Dentro Tanto Questo no Ok Abbiamo ragazzi La farm Di enderman E abbiamo La farm Di Blades Automaticamente Mo da qui Noi Anzi Direttamente Qua sotto Mi sa Che noi Ci mettiamo Direttamente Qua sotto Mo ci mettiamo L'apparato Per fare carburante Visto che Così Sopra Rimane Abbastanza Libero Ah Questi Non li avevo Messi Poi L'ultima Volta Le leve Vabbè Tanto 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 Ora Il macchinario Lo andiamo A rimontare Quindi Ah comunque È vero Ho dimenticato Che devo creare Delle cose Ancora Teoricamente Ok I macchinari Non si uniscono Perché Conserva Il necessario All'interno Allora In pratica Che facciamo Abbiamo Me sa che un pochettino Allargo di più Va se no qua Poi è troppo stretto Ma che cacchio fai Lupe Ti sei fatta ammazzà Ma non ci voglio credere Lupe Ma cosa fai Ma roba Ragazzi Veramente Sei andato a buttare Contra quel coso Ma dai Ma sei serio Ma che fai No no Qui nella cassa Lupe Nella cassa Nella cassa Recuperi Aspetta Va prima che questa Si ammazza di nuovo Qua tappiamo Che è pericoloso Va Ho dimenticato Lupetta Che ci devo mettere Ok Mi ucciderà Lupetta Ma io questa Mo che è successo Lo voglio fare Aspetta Stai ferma Che prima Lo devo fare E poi ti vendichi Quindi stati calma Ehi Prima me lo fai fare Oh ma sei proprio Cattiva Ferma Mi ucciderà Io comincio a scappare Ai 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 Ma sai che ho dimenticato Di alzare il volume Porca miseria del gioco L'ho dimenticato Vabbè Uguale Un po' si sente Ho dimenticato Di alzare il volume Del gioco Dai Oh Namoo Basta Lupina Enamo Su Un attimo Che non ho finito Con i macchinari E fammi alzare Anche un po' Il volume del gioco Perché Accidenti L'ho dimenticato Di farlo Ok Scusate quindi Se il volume È stato finora Basso Non ci ho fatto caso Il bastone Della punizione Eh ma porca miseria Guarda Ci devo mettere i cartelli E basta Fammi costruire Su Allora Ok Allora Dunque Mi ritrovo pieno di cose Che non so che fare Allora Fluid extractor Questo lo mettiamo qua L'altro fluid extractor Lo mettiamo qua Il mixer Lo mettiamo qua Solo che devo cambiare l'ordine Devo cambiare l'ordine Ma magari già così No così si collega Direi di no Mi sa che questo Lo devo mettere Comunque qua E questo mi sa che Lo vado Il verde Il verde Il verde Il verde Mi sa che lo andiamo A mettere Invece da questo lato Ok Quindi Pompa Con pompa Due leve Una E due Azioniamo la leva Perfetto E qua dentro Ci devo mettere Ok In pratica Qual è il problema Dovrei fare Sta cosa Automaticamente La leva La abbassiamo E da qui Insomma Uscirà poi Il Carburante Però Per il carburante Dobbiamo Metterci Un altro Oggetto Per il carburante Ho bisogno Per il carburante Ho bisogno Quanto meno Che so Di un C'è C'è la pompa Ma la pompa Va messa sopra Non sotto Quindi la pompa Però non mi interessa Fuel Drum Andiamo a creare Un fuel Drum Allora Fuel Drum Ok abbiamo la pompa Poi ci vuole Jerry can Qua come cavolo si chiama Ok eccomi Uè lupettina Allora C'ho tutto Più o meno Dovrei avere quasi tutto Direi Per ora almeno Cominciamo un po' A mettere il carburante Qua dentro E quindi La pompa La mettiamo Così Questo Lo mettiamo qua E Do cacchio È il carburante Perché non va a finire Lì dentro Forse ho sbagliato L'entrata Forse l'entrata È quella dietro Ok Sì Bene E mi staffa È il carburante Perfetto L'uscita Quindi mo L'abbiamo azzeccata Ok Mi staffa È il carburante Mo Quindi ci mettiamo Questo qua E dove Cacchio È finita Ah qua dentro Eccolo Con questo Questo lo mettiamo qua Qua ci mettiamo Questo E il carburante Lo spingiamo Qua dentro Ok Il carburante Quindi mo Va a finire Dentro a questo Dentro a questa cisterna Tanica Ok Allora mo Qual è il discorso Devo portare Gli oggetti Da qua A qua Allora ragazzi Eccoci qua Quindi ho preparato Degli hopper Per semplificarmi Un po' La vita Però Ho dimenticato Una piccola cosa Ho dimenticato Che la cassa Non la posso aprire Beh a meno che A meno che Non ci metta Un'altra cosa Ovviamente Comunque voglio Mettere in pratica Una cassa Qua Una cassa Qua E una cassa Qua Quindi Qua dentro Ci dobbiamo Mettere Questi Quindi qua Dentro Ci vanno Questi Più Ci metto Anche un po' Di carbone Qua ci metto Solo carbone Per ora E qua Anche carbone Si ma Però così Possibilmente Non va bene Perché il carbone Piglierà lo spazio Per scendere Probabilmente Boh Vediamo Le Ender Pearl Le dobbiamo Mettere La dietro Credo Se non ricordo Male Però Messe qui Non se le prende Le Ender Pearl Probabilmente Non le prenderà Vediamo Beh si No le prende Beh si Perché forse Abbiamo fatto Il pieno Boh va bene Per ora Pare che funziona No questo Non c'entra niente Ok Allora Qua ci mettiamo Questo 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 E così Teoricamente Io le casse Comunque Le apro Ok Una bella torcia Qua per sicurezza Magari una pure Qua Si per ora Diciamo che Il sistema È fatto Che sposto Le cose Manualmente Ma poi Magari Lo sistemo Meglio Per farlo Funzionare Diversamente Per ora Va bene Anche così Perché comunque Il sistema Costitubi Non mi funzionava Bene Nella farm Nella Ma come cacchio All'armatura Qua Che è strana Allora Vediamo un po' Se riusciamo A riempire Sto coso E come cacchio Si fa Ah 4% Eh La cavolata Eh raga Che Consuma Un botto Consuma Un botto Di come Chiavolo Si chiama Di Glovestone Accidente C'erano 55 pezzi E non ci ho fatto Granché Come carburante Comunque Qui dentro Insomma Ci abbiamo L'esperienza Quindi se mi serve Esperienza La vengo a prendere Da qua Se serve Esperienza Ce l'abbiamo Qua dentro Almeno Almeno Un bel po' La conserviamo Allora Quindi In pratica Vorrei mettere Una scalinata Che sale Per di qua Bene Qua ci mettiamo Questo Quindi noi Da qui Possiamo Scendere sotto A controllare La situazione E quindi Da qui Arrivano I cosi Da qui Scendono I I blades E da qui Gli enderman E tutto va Fini sta cassa Intanto lupetta E' andata Non so Non so di preciso Cosa sta a fa Che sta a fa Non si deve interessare Quello che sta a fa Oh lupetta Sta facendo qualcosa Di segreto Mi sa che Prima o poi Ci farà Vedere Qualche cosa Vero lupè E così Non in questo momento Ah lupetta E' molto silenziosa In questo gameplay Raga Perché evidentemente Sta preparando Qualche cosa E' molto Molto silenziosa Ma sta preparando Mi sa Qualche cosa Allora Come si mette Il carburante What Ok Ok ho capito Raga Praticamente Ho preso In braccio L'oggetto Ah ok Ce l'ho fatta Forse era colpa Delle torce Forse era colpa Delle torce Ho tolto le torce Forse che ce l'ho fatta Ma scusa Consuma carburante Senza fare niente Allora C'ho la chiave Ah ecco La chiave L'ho inserita Ok Ok Sì vabbè Ma il carburante Solo ciuccia Come se niente fosse Vabbè E' figo Ah per carità E' fighissimo Vabbè Ma il carburante Cacchio Non dura niente Ma il bello E' che lo consumo Senza fare un cavolo Ma secondo me E' strano Raga Troppo carburante Consuma sto me Sì Tempo che accelero Un attimo E' già finito Il carburante E' amen Cioè Tempo che faccio 100 metri Ho buttato Tutta quella Fatica di carburante Meno male Che me la posso Portare dietro La roba qua Però Voglio dire Non è normale Il consumo È esagerato Devo guardare Ragazzi Se per caso Nelle impostazioni Di questa mod Posso abbassare Il consumo Del carburante Perché è stratosferico Se posso abbassare Il consumo Del carburante Dalle impostazioni Allora va bene Magari riusciamo Ancora ancora A usarla Sta mod Ma voglio dire Il consumo Il cartello No no Non ci vado sotto Non ci vado Non ci vado Non ci vado Non ci vado Ho detto Ehi basta Ho detto che non ci vado Va bene ragazzi Quindi abbiamo Le nostre Due bellissime farm Probabilmente Ne farò altre In base a quello Che serve Vabbè Tipo Farm Visto che ormai Abbiamo le farm Comunque Sia ragazzi Concludo Qui questo Gameplay Spero tanto Che vi sia piaciuto Mi raccomando Ah beh Lupetta Sta preparando Qualche cosa Era zitta Ma prepara qualcosa Ragazzi Quindi Vi salutiamo Mi raccomando Lasciate un bel Pollicione In su Ci becchiamo Presto Ciao Alla prossima Ciao Ciao